Siamo degli eroi, nonostante la neve che non ci ha fermati, qualcuno aveva proposto di rimandarlo perché sarebbe stato impraticabile, in realtà così impraticabile non è Bologna, ma comunque le difficoltà le abbiamo superate, abbiamo sentito il responsabile dell'evento, il dottor Burici, il quale ha detto storicamente io arriverò, per cui siamo andati avanti. L'argomento è di grande interesse, parleremo di mal di schiena, è una patologia fra le più diffuse, è più diffusa dopo il raffreddore, quindi si dice che è un problema di grande attualità e di grande interesse. Io ho provato a mettere insieme diverse specialità, in particolare la neurochirurgia, mi sono avvalso della preziosa collaborazione del dottor Burici, un grande esperto di neurochirurgia, insieme al suo gruppo con il professor Conti e Ilaria Barni. Devo dire che è un piacere averlo qui perché abbiamo anche grandi difficoltà perché è sempre in giro per il mondo, ma soprattutto è un piacere stargli accanto in sala operatoria perché è un artista, nel senso che gli ortopedici sono coinvolti in questa patologia, ma noi siamo più manovali e a volte ingegneri, ma i neurochirurghi sono veramente degli artisti, sono degli architetti. Medinforme è un poliambulatorio impegnato in Emilia Romagna e in Puglia in erogazioni di prestazioni sanitarie con progetti nelle scuole e sul territorio, con un intenso programma formativo che ci vede presenti con iniziative come questa, di grande attualità in collaborazione con enti nazionali e relatori di grande pregio. Già il dottor Catamo ha ringraziato tutti, io mi unisco a questo ringraziamento. Abbiamo ottenuto, grazie a questo programma, 9.9 crediti ECM per i medici e il personale sanitario. Continueremo con questo impegno anche per tutto il 2018. Come in altri incontri formativi, anche in questo abbiamo avuto il piacere di essere stati sostenute dalla Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e dal dottor Zocchi, presidente regionale dell'Emilia Romagna, come prestigioso relatore. Ci auguriamo che questa collaborazione chiaramente possa continuare. Abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulla neurochirurgia e sull'ortopedia, perché è altissima la percentuale di chi soffre di mal di schiena. E vorrei rivolgere un invito a tutti voi per un'attiva collaborazione che ci veda come riferimento per il trattamento ambulatoriale e anche chirurgico delle patologie del rachide. Sono un ortopedico che lavora all'ospedale maggiore. Io mi occupo prevalentemente di ortopedia e traumatologia. Vedo che c'è anche una carissima collega lì seduta con cui ho collaborato per parecchi anni. L'ortopedico è una figura che secondo me viene inserita in una maniera un po' borderline in questo tipo di patologia, perché per noi cosa rappresenta la lombosciatalgia? Per noi rappresenta praticamente, e la dottoressa Violini sa di cosa parlo, perché abbiamo lavorato insieme per 7-8 anni all'ospedale maggiore, rappresenta sicuramente un buon 40% di tutto quello che noi vediamo in un pronto soccorso. Innanzitutto cos'è la lombalgia? La lombalgia si definisce un dolore localizzato in regione lombare, generalmente che si diffonde ai glutei uni o bilateralmente. Parliamo di lombosciatalgia o lombocruralgia quando il dolore si irradia anche ai territori innervati rispettivamente dal nervo sciatico e dal nervo crurale. Mi presento, sono Ilaria Barnia, sono neurochirurgo e lavoro con il dottor Buric. Ringrazio il dottor Catamo per l'invito. Da punto di vista epidemiologico, come già stato detto, è la lombosciatalgia una delle cause più frequenti di inabilità e di dolore, di accessi ai pronto soccorsi, medici famiglia, eccetera. Più frequentemente tende a risolversi spontaneamente nel giro di 6-12 settimane, anche meno, in alcuni casi anche nel giro di pochissimi giorni, altre volte invece sono necessari diversi mesi. In ogni caso comunque nel 90% dei casi è una sintomatologia che si risolve con la sua terapia conservativa o fisica. Più frequentemente si sviluppa nel picco dell'età lavorativa, cioè tra i 30, 50, 55 anni. Allora, la dimensione del problema, l'abbiamo già detto, il dolore lombare è considerato un problema sanitario non rilevante, risulta essere assai comune alla popolazione. Si richiede che l'80% almeno una volta all'anno, dico io, di mal di schiena. I sintomi sono fra le cause più frequenti di accesso all'ambulatore del medico vicino generale, ho visto una revisione, cioè tutte le patologie muscoloscheletiche ormai stanno superando quelle cardiovascolari che erano quelle dell'ipertensione, o frequenza di accesso nei nostri studi. Adesso ci dedichiamo un attimo a quella che è la ozonoterapia, che cos'è l'ozono? L'ozono di per sé è un gas che, come vedete, è formato da tre atomi di ossigeno e si genera dal passaggio di una scarica elettrica rappresentato con queste tre palline. su questa immagine che vi fa vedere l'ossigeno che dopo la scarica elettrica si combina e dà origine all'ozono. Quindi è una molecola di tipo triatomico, però ha un'altra prerogativa che si rompe molto rapidamente per ritornare a essere una molecola biatomica e un'altra molecola di ossigeno singola. Rapidamente elenchiamo quali sono le, ce ne sono tante, ma le cause più frequenti di lombosciatalgia, ovviamente l'ernia del disco, l'instabilità degenerativa nelle sue diverse forme, la spondiloristesi degenerativa e congenita e la cistisinoviale. Parliamo dell'ernia del disco. Quando abbiamo una risonanza cosa dobbiamo riconoscere in un'immagine in sezione assiale? Riusciamo a vedere, quando è una buona risonanza, il canale vertebrale con il suo contenuto, il foro di coniugazione, le radici nervose in uscita, in questo caso l'ernia foraminale e tutto il contorno che sta intorno al rachide. Quali sono le fasi dell'ernia, i possibili aspetti di un'ernia? In questo caso a sinistra noi vediamo che il nucleo polposo si è rotto, sporge verso l'anulus fibroso e comincia a dare un leggero bulging, poi c'è un'ernia che ha interrotto le fibre dell'anulus e comprime la radice, un'ernia espulsa ma ancora in continuità con il nucleo polposo e un'ernia che ha perso completamente la continuità con il nucleo polposo. E mi aggancio a quello che diceva il professor Conti prima. È da una decina di anni che due francesi, Valais e Roussoli, che hanno messo in piedi questa cosa del sagittal balance, che è l'equilibrio sagittale della schiena, che da una parte ci ha spiegato il perché pazienti che hanno poco, pazienti che sono stati operati bene, comunque continuano a soffrire di mal di schiena e dall'altra parte ci ha reso la vita molto più difficile e ha aumentato il numero delle procedure chirurgiche ed ha aumentato anche l'aggressività chirurgica stessa. E questa era una risposta, il perché del più. Adesso dite voi, ma a noi che ce ne frega di questa roba qui. Penso sia giusto che tutti i medici che vengono in contatto della medicina generale di poi con i pazienti che soffrono della lombalgia, anche della sciatalgia, lombalgia e sciatalgia sono dei sintomi, cioè dolore assiale, dolore radiato, sono sintomi che possono interessare dall'ernia al disco in avanti fino alle grosse deformità. Sono sintomi aspecifici rispetto alla patologia. Tante patologie possono avere i stessi sintomi. Pertanto è giusto che tutti abbiano una nozione breve di cosa è questo discorso dell'equilibrio sagittale. Perché se no succede che noi si opera ai pazienti e vi mandiamo a casa pazienti con queste immagini e diciamo ma cosa gli avranno fatto, il perché soprattutto gli avranno fatto tutto sto macello dentro, che senso aveva. L'uomo aveva due dischi rovinati, un nerni e gli hanno montato tutta sta roba qui. Questo non è un bravo chirurgo, questo lavora solo per i soldi e non è vero perché per fare questo o per fare solo un livello i soldi che ci danno sono sempre i soliti. Pertanto questa è più una spesa che un guadagno e un ce ne non torna. Io sono un dirigente medico dell'INAIL, lavoro alla sede di Casarecchio che dipende da Bologna. L'INAIL è l'istituto assicuratore nazionale delle malattie professionali. All'inizio proprio della sua storia nacque proprio come assicurazione nei riguardi i lavoratori e per tanto tempo ha svolto anche delle attività di cura, i centri traumatologici e tutto così. Poi dopo il 78 l'introduzione del servizio sanitario l'attività è stata pressoché unicamente di tipo assicurativo. Adesso già da diversi anni è cambiato molto come attività. Infatti ancora magari si pensa all'INAIL solo come l'istituto che assicura le malattie professionali, gli infortuni, mentre invece interviene in tanti campi. Intanto oltre alla parte assicurativa ha ripreso anche un'attività sanitaria, quindi abbiamo la possibilità di far fare dei percorsi di terapia, seguire cura tutti i pazienti. Ma inoltre svolge anche delle attività importanti di ricerca, ha proprio delle sezioni l'ISP, SEL e altri che svolgono principalmente ricerca. Inoltre come ambito diventa sempre più importante l'attività di prevenzione e di reinserimento lavorativo. Il problema è questo. Dottore, soffro di lombosciatologia, un'assicurazione e vado tranquillo. Ormai non si va tranquilli più da nessuna parte, tanto più quando si parla di soldi. È imbarazzante da parte mia partire dalla scienza alta dei neurochirurghi, degli ortopedici, dei fisiatri, del medico legale dell'INAIL e parlare di risarcimenti in ambito di polizia di infortuni privata. In realtà il medico legale si trova a fare la trade union tra la medicina, la scienza, il diritto e il danaro. Pagare con dei soldi una sofferenza è impossibile. Trovare la giusta quantità di danaro per risarcire è impossibile. Nel nostro caso noi parliamo di polizia di infortuni private. Nicola vi ha spiegato cos'è l'assicurazione sociale dell'INAIL che ha determinati obblighi. Le assicurazioni private sono molto più restrittive, ma non perché sono più restrittive le assicurazioni private, ma perché è un contratto specifico tra chi compra e chi vende. Mi chiamo Fabio Fregola, rappresento la medica di Bologna che si occupa della distribuzione di apparecchi di ossigeno-zonoterapia da diversi anni, quindi diciamo siamo specializzati ormai nel settore. Sostanzialmente quindi è un generatore l'apparecchio. Non fa altro che trasformare l'ossigeno che è la fonte, l'ossigeno medicale, lo trasforma attraverso una scarica voltaica. Quindi la fonte, l'ossigeno medicale può venire da una bombola oppure da un sistema centralizzato qualora fossi in ospedale, in case di cure. Osonoterapia come trattamento di mal di schiena da ernia discale, questi sono risultati sulla risonanza fatta da 4 a 6 mesi dopo la intra discale. Questo si vede bene prima, questo è dopo, una netta riduzione dell'ernia che c'era prima, questo è prima e questo è dopo. si vede anche qui una quasi completa scomparsa dell'ernia, questa è un'altra ernia che si vede qui e questo è dopo con una riduzione dell'ernia stessa.